Poste italiane ha attivato diverse modalità di controllo del Green Pass per consentire l'accesso alla rete dei 13.000 uffici postali in modo semplice e sicuro. Negli uffici postali dotati di gestore delle attese, i cittadini mostreranno all'ingresso il QR code del Green Pass. Una volta riconosciuto il codice, il gestore consentirà di scegliere l'operazione e di prendere il ticket necessario per presentarsi allo sportello. Negli altri uffici postali, i cittadini dovranno mostrare il Green Pass direttamente allo sportello per la verifica dell'operatore attraverso il lettore scanner che ne confermerà la validità in tempo reale prima di procedere con i servizi richiesti. Infine, nei prossimi giorni per i cittadini che pronotteranno l'appuntamento utilizzando le app di Poste italiane, la verifica verrà eseguita dalla stessa app. Per coloro che invece prenoteranno sul sito poste.it, il controllo della certificazione verde avverrà direttamente in ufficio postale.